Inauguriamo oggi una serie di trasmissioni con la Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti. E' qui con noi il segretario provinciale Pippo Stella che inizierà a parlarci della problematica di questo settore che in provincia di Ragusa ha una rilevanza. Dovrebbe essere il settore dei trasporti uno dei più forti della Sicilia se non del Mezzogiorno in provincia di Ragusa? Sì, i trasporti in generale sono in tutta Italia, ma in provincia di Ragusa ha una specificità del trasporto merci, diciamo come bacino di utenza, anche perché noi non abbiamo ferrovie, non abbiamo autostrada e quindi tutte le merci, il 90% delle merci, anche più, viaggia delle nostre merci, quindi delle primizie, viaggia tutto su gomma. E quindi è un comparto abbastanza grande, solo che purtroppo non è un comparto dove la legalità ha quella valenza, anzi l'illegalità è la normalità, la normalità perché è stato abbandonato a se stesso e chi è più forte ha la ragione, infatti qua non esistono contratti di lavoro, non esiste il rispetto della persona e la cosa più grave è che tutto questo non giova all'economia della ragusana, perché tutto questo significa impoverire proprio l'economia, perché se noi siamo stati una provincia che tradizionalmente è stata più diversa dalle altre province per spirito meditoreale, per una serie di cose, di ragioni, oggi noi corriamo il rischio di essere una provincia che paga un prezzo altissimo, perché non ha le infrastrutture, perché non ha tutta una serie di servizi a supporto dell'agricoltura e quindi noi che facciamo il servizio, siamo di supporto all'agricoltura, quindi all'SR, quindi allo sviluppo, ci troviamo in una situazione abbastanza pesante, il fatto che in questo comparto l'illegalità sia la regola e che tutti facciano finta di non vedere, diventa un impoverimento dell'agricoltura e una schiavizzazione dell'autista, perché noi parliamo di trasporto merci e le aziende di trasporto merci non sempre sono legali nel senso non che siano mafiose, ci sono anche quelle, ma legali nel senso che non riescono a supportare, a sviluppare un'economia, a creare ricchezza che resti nel territorio. Cosa chiediamo noi? Noi abbiamo chiesto all'assessore Pistola, l'assessore regionale che inseguiamo da mesi ormai, di fare un tavolo tecnico tra l'agricoltura e il trasporto merci, perché si comincia ad esempio a stabilire degli orari di carico e scarico delle merci, perché non è possibile caricare alle 11 e alle 10 di mattino o alle 8 del mattino essere a Milano, al mercato di Milano, non è possibile tecnicamente, non è possibile e quindi c'è bisogno di riorganizzare il comparto, sia dall'ora dei magazzini, sia dall'aumento delle navi per poter andare ai mercati del nord e per mettere anche un freno a quest'illegalità diffusa, quindi chiediamo all'Inps, l'abbiamo fatto con la prefettura, l'abbiamo chiesto all'Inps, l'abbiamo chiesto alle camere di commercio, perché qua si viaggia tutti con l'aiutino, si superano le ore di guida, si guida in ore che diventano poi, perché dobbiamo renderci conto che stiamo parlando della sicurezza dei cittadini che viaggiano su strada, quindi nel momento in cui tu hai un tir che viaggia per 10, 12, 15 ore senza riposo e quindi usa la calamita o la doppia scheda, diventa un problema non solo per l'autista, ma anche per coloro i quali viaggiano su strada, quindi c'è un problema di sicurezza stradale che va garantita, c'è un problema di dignità dell'autista che fa quel lavoro e quindi c'è la necessità che la prefettura, che abbiamo chiesto più volte, faccia proprio un tavolo tecnico dove mette assieme i vari soggetti del comparto, dall'Inps all'INAIL alla Camera di Commercio che rilascia le schede, anche ai sindacati datoriali, CNA, Confindustria e soprattutto anche i consulenti del lavoro che in tutto questo non sono marginali, anzi se l'apporto tecnico deve essere quella di come fregare l'altro, non è quello, non rispettano proprio la deontologia professionale che loro stessi si sono dati, quindi penso che chiedere in prefettura di nuovo un tavolo tecnico dove metta assieme i soggetti della filiera, significa mettere, cercare di far emergere e migliorare e creare ricchezza per il territorio, proprio nell'interesse del territorio. L'appello che noi facciamo è, noi abbiamo istituito il numero verde, il telefono amico perché ovviamente gli autisti erano abbandonati a se stessi e non avevano un punto di riferimento, i risultati di questo numero verde sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che è diventato un supporto vero, chiamano da tutta Italia, non solo dalla Sicilia, perché poi il passaparola e gli autisti guidano dall'Italia all'estero, quindi fanno un po' tutti i giri e quindi questo ha creato il passaparola e la pubblicità agli autisti, era il numero al telefono amico. Quindi io ripeto, l'appuntamento mensile che ci propone di fare è anche un modo di far uscire dall'ambito del settore, ma darlo alla società civile, perché la società civile alla volta non ha contezza di quello che succede in questo comparto e si pensa allo schiavismo che sia solo un fatto agricolo e non è così. Capisco che le condizioni di lavoro, anche grazie ad alcune leggi, sono andate sempre più a peggiorare, ma è anche vero che ormai il credo di sopportabilità di questa categoria è arrivato al limite. Noi siamo anche in una fase dove non riusciamo a chiudere il contratto, probabilmente andremo ad uno sciopero sotto Natale, proprio perché il tema della legalità e del rispetto delle regole diventa centrale per lo sviluppo dell'economia. Non ci sono altre discussioni, se non si parte da questo non si riesce ad andare avanti. Bene, ringraziamo Pippo Stella della Filt CGL e lo aspettiamo per i prossimi appuntamenti con i quali approfondiremo anche altre tematiche.